Ciao ragazzi, il mio nome è Elisabetta e benvenuti in Italia per il breakfast. Oggi vediamo insieme come preparare questi burger di potato. Mettiamo un po' pieno di acqua sul tavolo e mettiamo le potato e un po' di salto. Mettiamo i nostri potato per 30 minuti. Mettiamo tutti i nostri potato. E quando siamo finiti, le tagliamo in piccoli e poi mettiamo tutti i miei ingredienti bene. Dopo questo mettiamo in un po' di olio di oliva e un po' di salto. E poi mettiamo bene tutti i ingredienti per combinare. Poi, su una superficie flurrede, prepariamo i nostri potato di burger. Mettiamo nel medio un po' di cheese e poi cerchiamo. Ho deciso di usare un po' di Robiola, ma puoi usare il po' che preferisci. Quando hai preparato e formato tutti i tuoi burger, le trasferiamo su una basina e poi in un po' con un po' di oliva. Poi cuociamo le tagliate fino a che si diventano oro. A questo punto il tuo burger di potato sarà pronto. Allora, questa ricetta è finita, spero che avete piaciuto e se vuoi supportare, abbiatevi al canale. E, come sempre, vedo la prossima settimana per una nuova ricetta. e, come sempre, vedo la prossima settimana.